Io credo che le primarie servano per presentare un volto e un programma, ma ho chiesto che ci siano delle regole chiare, perché tutti devono partire con gli stessi mezzi, se non hanno gli stessi mezzi non ci sono delle primarie reali. E poi ho chiesto al segretario Bersani, che spero risponderà nel pomeriggio, che faccia rispettare lo statuto. Rinnovamento per me significa tre mandati e poi a casa, nessuna eccezione.